E continuiamo con Italo Testa. Italo Testa, tu sei nato a Castellarquarto, se non ricordo male, ma vive a Milano da molti anni, ha pubblicato diversi e significativi libri di poesia. Il primo, Biometria, ricordo male, del 2005, e poi La divisione della gioia per Trans Europa 2010, un libro che ho molto amato, forse grazie a quel libro ci siamo anche conosciuti. E poi, da qualche mese, nel 2016, per Aragno, è uscito Tutto accade ovunque. È il libro dal quale Italo leggerà questa sera. Libro diviso sostanzialmente in tre parti. La prima parte si chiama La casa perfetta. La seconda parte, I camminatori, che poi è una placchetta che ha vinto il premio Valigie Rosse ed è confluita in questo libro. La terza parte, invece, i testi in prosa, anche quella molto interessante e particolare. La domanda che voglio fare a Italo, per poi introdurre la lettura, già viene dal titolo. Tutto accade ovunque. E poi, nel primo testo della prima sezione, c'è il verso che si ripete due volte, come succede per molti testi, della prima parte. Tutto accade simultaneamente. Quando mi è capitato di scrivere di questo libro, avevo incrociato un testo su Perek, quando lui, in un caffè a Parigi, stette per tre giorni, ad annotare semplicemente sul diario tutto quello che accadeva mentre lui scriveva. E si pose a un certo punto la domanda cosa scrivo quando non accade nulla? Tu questa cosa un po' la ribalti, perché non solo tutto accade ovunque, tutto accade simultaneamente. E direi, tutto accade nonostante. C'è questa coppia di versi in cui tu dici anche oggi ho visto qualcosa che spero di comprendere tra due giorni. Allora, la domanda che volevo farti è questa. Se tutto accade nonostante, questa cosa che ci sfugge, che non comprendiamo subito, ma che è comunque accaduta, la comprenderemo forse, ma se non dovessimo comprendere, è importante comunque, è importante che sia accaduta? Sì, c'è una discresia tra ciò che possiamo afferrare e ciò che accade. Il poemetto che poi andrò a leggere ha a che fare con questo scorrere e ripetersi degli eventi nei quali siamo immersi in modo asincronico. In un certo senso, quindi, non è così importante che accada questo evento di comprensione, perlomeno dal punto di vista della voce, della perspettiva che metto in gioco nella casa perfetta. perché forse questa perfezione che poi nel testo sentirete è anche un disgregarsi, però ha a che fare con la compiutezza di ogni evento, cioè col fatto che questa idea del tutto accade ovunque rimanda a... se tutto accade ovunque, tutto accade simultaneamente, in un certo senso, ogni evento è in sé compiuto. Oppure, per dire la campana, ogni fenomeno è in sé sereno. Perfetto. Allora, ascoltiamo il tuo testo a leggere La casa perfetta da tutto accade ovunque. Tutto accade simultaneamente. Sono seduta e mi muovo verso una porta. Sono seduta e scivolo nel corridoio. Tutto accade simultaneamente. La foglia dell'albero nel giardino cade sul mio tappeto. La foglia dell'albero nel giardino trema sulle mie mani. Anche oggi ho visto qualcosa che spero di comprendere tra due giorni. Anche oggi ho visto qualcosa che spero di arrivare a comprendere. Tutto accade simultaneamente. Le pareti bianche si curvano sulla stanza. Le pareti bianche del cielo si curvano dentro la mente. Tutto accade simultaneamente. Spalanco le porte e le immagini si annullano. Fermo gli occhi e le immagini si schiudono. Anche oggi ho visto qualcosa tra la crepa e l'azzurro. Anche oggi ho visto qualcosa qualcosa. Tutto accade simultaneamente. La fragranza dell'aria riveste lo sguardo. La ghiaia in cortile scivola dentro. Tutto accade simultaneamente. Apro le finestre e divento tutti i suoni. Apro le finestre e divento tutti i suoni del mondo. Anche oggi ho visto qualcosa che spero di comprendere tra due giorni. Anche oggi ho visto qualcosa a cui dovrò ripensare. Tutto accade ovunque. Incontro gente e sono loro. Incontro gente e sono quella gente. Muovo la mano e si voltano. Si spostano e muovono la mia mano. Tutto accade ovunque. Mi sfiorano e sono io a toccarli. Li sfioro e sono loro a dire guarda com'è fatto un occhio e un occhio e una bocca. Guarda com'è fatto un braccio e una mano e ancora una mano. Anche oggi ho visto qualcosa che dovrò dimenticare. Anche oggi ho visto qualcosa che spero di comprendere tra due giorni. Tutto accade ovunque. La donna che corre sulla strada è ferma nel parco. La donna nella stanza corre lungo la strada. Tutto accade ovunque. Parlo con qualcuno ed è lui a parlarmi. Dicono qualcosa e sono loro a dire guarda com'è fatto un volto e un volto e uno sguardo. Guarda com'è fatto un volto e un altro e ancora uno sguardo. Anche oggi ho visto qualcosa che fatico ad inquadrare. Anche oggi ho visto qualcosa che spero di arrivare a comprendere. Nulla succede prima o dopo. Cammino nella casa e raccolgo i rami caduti. Esco e sono chiusa dentro. Nulla succede prima o dopo. La donna alla finestra entra dalla porta. la donna tocca l'imposta e s'allontana. Anche oggi ho visto qualcosa che stento a riconoscere. Anche oggi ho visto qualcosa che mi sfugge. Nulla succede prima o dopo. Le sillabe sulle labbra lambiscono le immagini. I segni nella mente intarsiano i muri. Nulla succede prima o dopo. vuoto i vasi e i pensieri maturano. Lucido le foglie e le foglie si staccano. Anche oggi ho visto qualcosa che spero di comprendere tra due giorni. Anche oggi ho visto qualcosa sul bordo delle mani. Nessuna cosa è una. Attraverso la cucina e la rimessa risuona. Imbocco l'entrata di casa e la rimessa risuona. Nessuna cosa è una. Perché le cose non minaccino devo voltarle. Perché non sorridano devo voltarmi. Anche oggi ho visto qualcosa una nota sulla porta. Anche oggi ho visto qualcosa qualcosa. Nessuna cosa è una. Giaccio sul letto e la terra mi ricopre. Sul lenzuolo gualcito si raccolgono le api. Nessuna cosa è una. Perché la lampada non mi guardi devo oscurare le cose. Perché il soffitto si spalanchi devo fermare la porta e guardare come è fatta una mano e un volto e ancora un volto. e guardare come è fatta una mano e una mano e la volta del cielo. Anche oggi ho visto qualcosa che arriverò a comprendere tra due giorni. Anche oggi ho visto qualcosa che mi farà tremare. Non posso trattenere più le cose fuori. Sull'impiantito l'albero mi sovrasta. La parola che dico ghiaccia dentro la bocca. Non posso più trattenere le cose fuori. La neve si accumula e invade le stanze. La pioggia sul letto precipita fissa. Anche oggi ho visto qualcosa. Un movimento sottovento. Anche oggi ho visto qualcosa. Un fremito dietro la siepe. Non posso più trattenere le cose fuori. I nidi di tortora orlano il cuscino. Le fronde del pino premono alle finestre. Non posso più trattenere le cose fuori. Penso a una strada e muovo la polvere. Accarezzo le cose e le cose dicono guarda come è fatto un giorno e un'ora e ancora un giorno. Guarda come è fatto un minuto e un istante e ancora un istante. Anche oggi ho visto qualcosa che fatico a comprendere. Anche oggi ho visto qualcosa qualcosa. Tutto accade comunque. La casa in costruzione cattura le voci. La casa crolla prende la luce del giorno. Tutto accade comunque. Le pareti sono fibre trasparenti. Le pareti nella stanza girano intorno. Anche oggi ho visto qualcosa che di continuo ritorna. Anche oggi ho visto qualcosa indistintamente. Tutto accade comunque. Se allargo le braccia la stanza s'allarga. Dietro le imposte il prato riluce. Tutto accade comunque. Sono seduta e scivolo sull'erba. Sono seduta e cammino in cerchio. Anche oggi ho visto qualcosa che spero di comprendere tra due giorni. Anche oggi ho visto qualcosa e spero di arrivare a comprendere come cade la casa perfetta. Come cade la casa perfetta. Anche oggi ho visto qualcosa. Anche oggi ho visto così cade la casa perfetta. così cade la casa la casa perfetta così cade. grazie. Grazie. Applausi